Ciao, sono Andrea, un signore economist in Prometea. Mi occupo di ricerca e lavoro principalmente alla realizzazione di studi di impatto economico e sociale in ambito infrastrutture, politiche pubbliche e strategie di investimento. Mi occupo anche di studi per lo sviluppo delle economie locali e dei territori in collaborazione con enti e associazioni. Nel mio lavoro è fondamentale la capacità di individuare la letteratura economica di riferimento, costruire le banche dati e mettere in relazione le variabili al contesto analizzato attraverso modelli statistici e di previsione. Occorre poi sapersi organizzare per gestire al meglio la pressione, un po' come succede nello sport. Ho fatto nuoto per una vita e anche in questo lavoro la perseveranza, la capacità di gestire al meglio i tempi e tenere alta la soglia di attenzione sono fondamentali per raggiungere gli obiettivi prefissati. Nel nostro team di lavoro c'è un buon equilibrio, siamo guidati dai manager di progetto ma c'è anche molta libertà. Siamo anche incentivati ad avere un contatto diretto con i clienti, specialmente quando presentiamo i risultati delle analisi che abbiamo condotto in prima persona. Nel mio percorso professionale ho sperimentato molte realtà, dall'accademia ai think tank al mondo delle start-up, passando da esperienze internazionali a contesti più locali. Ecco, il mio lavoro qui è un po' la sintesi di tutto questo. Con il tempo ho imparato qual è l'ambito della ricerca che più mi interessa, ovvero la valutazione dell'impatto sociale unita all'analisi finanziaria. Mi piacerebbe continuare a sviluppare sempre più competenze verticali in quest'ambito.